questo tutorial fa parte di una sezione intermedi quindi le cose si fanno un attimino più complicate vediamole insieme c'è un animazione con tre livelli e un testo in dissolvenza lavoriamole insieme iniziamo con riempire tre slide con lo sfondo lavoriamo il primo passiamo in aggiustamento carichiamo il nostro cestino lo posizioniamo e ci diamo una leggera ombra passiamo ad animarlo lo animeremo su due tempi tempo 1 e tempo 2 al tempo 2 lo lasciamo così invece al tempo 1 l'opacità la settiamo a 0 vediamo l'anteprima ok passiamo di nuovo in aggiustamento queste freccine ci portano al prossimo al prossimo passaggio prossimo slide quindi abbiamo solo lo sfondo ed è per la precisione l'animazione con le rose quindi rosa numero 1 rosa numero 2 rosa numero 3 iniziamo col dare un'ombra non la daremo sempre uguale se no sembra lo stampino tutto uguale invece no passiamo a lavorarla togliamo la visibilità alle altre due rose ci troviamo sulla rosa numero 1 e e posizioniamoci da subito il diciamo il flash finale quindi la misura lo zoom sta bene così perfetto passo all'altra misura sta bene così rosa numero 1 la faccio più piccolina 25 perché poi la posiziono davanti vediamola tutte 3 ecco 1 2 e 3 stanno bene passiamo ricordiamoci che la terza livello la rosa numero 3 ha uno zoom a 25 rosa numero 1 tempo numero 1 tempo numero 1 30 e 30 le altre due le togliamo 30 e la facciamo venire da questa versante da questo versante togliamo la visibilità rosa numero 2 aveva ugualmente lo zoom a 30 questa volta la faccio venire da questa altra postazione tolgo la visibilità passo alla terza vi ricordate avevamo 25 di zoom metto 25 e la faccio venire da giù rimetto la visibilità a tutti riposizione sul tempo 1 e ci vediamo l'anteprima ecco la nostra animazione complicata però resa credo abbastanza chiara perfetto passiamo all'altro all'ultimo passaggio il terzo sfondo la terza slide dalla precetta direzionale ci possiamo sulla terza postazione aveva il foglietto per il testo me lo focalizzo ci metto un po' d'ombra e vado subito a impostarmi voglio darci anche un poco di luminosità e passiamo a scrivere il nostro testo ce l'ho in memoria per fare prima me lo posiziono un poco e vi voglio dire che per questo tipo di testo ci vuole un testo calligrafico ve lo lascio in cartella poi se volete usarne uno vostro ben venga l'ho settata la misura a 45 un bel rosso e ci ho dato uno sfondo vedete la differenza senza passiamo ad animarlo ci ho dato un carattere fade flip in una dissolvenza in entrata le altre due le ho lasciate assenti in maniera che rimane il testo voglio solo farvi notare una cosa questo testo ha due tempi uno e due ma non iniziano dall'inizio e fino alla fine hanno un vuoto qui e un vuoto qui questo perché questo spazio interesserà il movimento in entrata e in uscita ve lo spiego meglio poi dalla postazione iniziale incominciamo col mettere mettiamoci questa mettiamoci questa e mettiamoci questa vediamo se è uguale vediamoci la nostra anteprima quello che ho visto che ho dimenticato di aggiustare il tempo 3 è poco 3 secondi sono pochi ho messo 5 il tempo lo potevamo aggiustare anche nella finestra aggiustamenti comunque l'ho settato qui rivediamolo ancora attenzione a vedere il testo perché il fatto che vi dicevo prima avete visto è finito con la parte finale era vuota il testo è rimasto quando l'animazione è andata via via è andata via insieme a la parte finale è il testo il testo scompariva chiaro bene questo è tutto spero vi sia piaciuto nella nel mio sito nel mio sito vi metto la solita cartella con dentro il font il testo le immagini voglio solamente inserire inserire il inserire il copyright il copyright il copyright che forse ho dimenticato di mettere qui me lo vado a cercare un attimo eccolo 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 deve essere discreto non deve essere una cosa diciamo che da noi deve essere discreto appunto eccolo lì Rivediamo il tutto. Un po' lunghetto, un po' elaborato, però spero vi piaccia. È molto romantico. Ciao ciao! Questo tutorial fa parte di una sezione intermedi, quindi le cose si fanno un attimino più complicate. Vediamoli insieme. C'è un'animazione con tre livelli e un testo in dissolvenza. Lavoriamoli insieme. Iniziamo con riempire tre slide con lo sfondo. Lavoriamo il primo. Passiamo in aggiustamento, carichiamo il nostro cestino, lo posizioniamo e ci diamo una leggera ombra. Passiamo ad animarlo. Lo animeremo su due tempi, tempo 1 e tempo 2. Al tempo 2 lo lasciamo così. Invece al tempo 1 l'opacità la settiamo a zero. Vediamo l'anteprima. Passiamo di nuovo in aggiustamento. Queste freccine ci portano al prossimo passaggio, al prossimo slide. Quindi abbiamo solo lo sfondo. Ed è per la precisione l'animazione con le rose. Quindi rosa numero 1, rosa numero 2, rosa numero 3. Iniziamo col dare un'ombra. Non la daremo sempre uguale, se no sembra lo stampino, tutto uguale. Invece no. Passiamo a lavorarla. Togliamo la visibilità alle altre due rose. Ci troviamo sulla rosa numero 1 e posizioniamoci da subito il flash finale. Quindi la misura, lo zoom, sta bene così. Perfetto. Passo all'altra. Misura. Sta bene così. Rosa numero 1. La faccio più piccolina. 25 perché poi la posiziono davanti. Vediamola tutte e 3. Ecco. 1, 2 e 3. Stanno bene. Passiamo, ricordiamoci che la terza, il livello, la rosa numero 3, ha uno zoom a 25. Rosa numero 1. Tempo numero 1. Tempo numero 1. 30 e 30, le altre due le togliamo, 30 e la facciamo venire da questa versante, da questo versante. Togliamo la visibilità. Rosa numero 2. Aveva ugualmente lo zoom a 30. Questa volta la faccio venire da quest'altra postazione. Tolgo la visibilità. Passo alla terza. Vi ricordate? Avevamo 25 di zoom. Metto 25 e la faccio venire da giù. Rimetto la visibilità a tutti. Mi posiziono sul tempo 1. E ci vediamo l'anteprima. Ecco la nostra animazione. Complicata, però resa, credo, abbastanza chiara. Perfetto. Passiamo all'ultimo passaggio, il terzo sfondo, la terza slide. Dalla precetta direzionale ci posiamo sulla terza postazione. Aveva il foglietto per il testo. Me lo focalizzo, ci metto un po' d'ombra e vado subito a impostarmi. Voglio darci anche un po' di luminosità. E passiamo a scrivere il nostro testo. Ce l'ho in memoria per fare prima. Me lo posiziono un poco. E vi voglio dire che per questo tipo di testo ci vuole un testo calligrafico. Ve lo lascio in cartella. Poi se volete usarne uno vostro, ben venga. L'ho settata alla misura a 45, un bel rosso. E ci ho dato uno sfondo. Vedete la differenza senza. Passiamo ad animarlo. Ci ho dato un carattere fade flip in. Una dissolvenza in entrata. Le altre due le ho lasciate a sé in maniera che rimane il testo. Voglio solo farvi notare una cosa. Questo testo ha due tempi, uno e due. Ma non iniziano dall'inizio e fino alla fine. Hanno un vuoto qui e un vuoto qui. Questo perché questo spazio interesserà il movimento in entrata e in uscita. Ve lo spiego meglio poi dalla postazione iniziale. Incominciamo col mettere. Mettiamoci questa. Mettiamoci questa. E mettiamoci questa. Vediamo se è uguale. Sì, è uguale. Vediamoci la nostra anteprima. Quello che ho visto è che ho dimenticato di aggiustare il tempo. Tre è poco. Tre secondi sono pochi. Ho messo cinque. Il tempo lo potevamo aggiustare anche nella finestra aggiustamenti. Comunque l'ho settato qui. Rivediamolo ancora. Spero vi sia piaciuto. Nel mio sito vi metto la solita cartella con dentro il font, le immagini, tutto. Voglio solamente inserire, o avevo dimenticato, voglio solamente inserire il copyright. Il copyright che forse ho dimenticato di mettere qui. Me lo vado a cercare un attimo. Eccolo. Lo aggiusto un attimino. Deve essere discreto, non deve essere una cosa, diciamo, che da noi. Deve essere discreto, appunto. Eccolo lì. Rivediamo il tutto. Un po' lunghetto, un po' elaborato, però spero vi piaccia. È molto romantico. Ciao, ciao!